In Italia il giorno della candelora si capisce se il freddo finisce o durerà ancora. A Putignano invece abbiamo la festa dell'orso se l'animale resta nella tana l'inverno è trascorso. Altrimenti avremo ancora vento e ghiaccio per altri 40 giorni di tempaccio e siccome accade a carnevale iubris allestisce un baccanale mettendo in atto la scenetta con due orsi fatti in carta pesta. Uno è buono e bello l'altro brutto e fetente come ogni creatura dalla natura ambivalente.